Ilario Simonetta, consigliere delegato allo sport del comune di Andorra. Lo sport qui è legato soprattutto alla vela e un porto sotto le stelle nella dimostrazione. Sicuramente stasera un altro evento eccezionale. Abbiamo Giancarlo Pedote, velista, navigatore, oceanico in solitaria. Penso un uomo straordinario e qui a presentare a porto sotto le stelle il suo libro, la sua avventura, il suo viaggio al Van der Groove, gli 80 giorni per fare il giro del mondo. Una cosa importante dove si segna la sua forza di volontà, il suo coraggio, la sua determinazione. Forse è uno degli esempi più importanti per tutti quanti.